Caro Pionta, è arrivato anche il tuo momento. Abbiamo deciso di farti pelo e contropelo e di eliminare tutti i possibili anfratti dove si celava l'illegalità. Inizia così il post sulla pagina facebook del vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini sulla questione degrado, in questo caso del Pionta, che ormai tiene banco da diversi giorni su tutti gli organi di stampa e sui social network. La nostra stessa TV ha realizzato con la sua striscia quotidiana SOS Arezzo TV decine di servizi e speso fiumi di parole per le innumerevoli segnalazioni dei cittadini. Coloro che non vi si recavano da un po' di tempo, prosegue Gamurrini, avranno piacevoli sorprese nella zona dell'università. I lavori di manutenzione straordinaria sul verde andranno avanti fino a venerdì. Poi si partirà con l'accordo di programma con ASL ed Università per l'illuminazione, i vialetti e la nuova gestione del verde. Ci vorrà del tempo, prosegue Gamurrini, ma pian piano si raddrizza tutto. Il parco deve tornare ad essere fruito dagli aretini in tranquillità. È stato avvistato anche uno scoiattolo, chiude scherzosamente, che vedete nell'ultima foto.